E benvenuti ragazzi e ragazzi e bentornati in questo video, adesso siamo professori con le marche oggi, siamo di nuovo in una fantastica recensione, ragazzi allora, praticamente ieri era martedì, per chi vuole non lo sappia, purtroppo, anzi purtroppo, per mia fortuna, i prof nella mia scuola avevano la formazione, quindi oggi non sono andato a scuola, oggi che è mercoledì, sono usciti ben due video, uno dove avevo fatto il confronto Oreo contro Nutella Biscuits, mi l'ho lasciato sotto in descrizione, e il video di Toccan Battle dove vi lascerò sempre in descrizione, dove vi lascerò sempre in descrizione, oltre ai miei link in Instagram, appunto, trovate sempre sotto in descrizione, andate e seguitemi, e ragazzi, oggi, voi l'avete già letto dal titolo, sarà una recensione sul nuovo film di Will Smith, che devo andare a cercare il cast, perché molti personaggi, non mi ma ce li ho scherzato, ci sono, niente a posto, il nuovo film, l'ultimo film di Will Smith, con protagonista se stesso, in due varianti, chiamato Gemini o Gemini Man, anche se è Gemini Man, ho un po' di dubbi, che l'ho visto ieri, ho la Monster Energy Ultra Red, che andrò a provare perché, insieme a voi, anche, perché mi mancava, mi mancava la lattina, ok, ho retrogosto di fragola, frizzante, mi sono preparato anche qua, un po' di pane, quindi, come ogni recensione, partiremo con la trama, poi, scene che mi hanno colpito, scene per scredito, non ce l'ha, meno male, perché questo film già è quello che è, ma va bene, poi andremo al parere personale, e infine al voto, quindi direi di partire subito con la trama, e quindi via con la trama! Eccoci qua, ovviamente, con il mio carissimo computer alla mano, andremo a leggere la trama, a Gemini Man, Gemini Man, il film diretto da Angela E, è un thriller, più o meno, l'azione, che vede il protagonista, Henry Brogan, Will Smith, un assassino professionista, ormai, in lago degli anni, che ha trascorso la sua vita a uccidere Bersailly per conto di un'organizzazione criminale, dopo essersi guadagnato la fiducia e il rispetto dei suoi superiori e aver portato a termine una innumerevole quantità di compiti mortali, Henry decide che è giunto il momento di riterrarsi dalla mala vita e porre fine alla sua carriera. Ma si sbaglia di grosso, il suo capo non ha alcuna intenzione di lasciare andare un elemento così prezioso per i suoi affari. Dopo essersi rifiutato di lavorare ancora per lui, all'ospitato leader non rimane altra scelta che attuare un piano al limite del possibile. Si serve infatti del DNA di Henry per creare un suo clone, più giovane di 25 anni, a cui viene affidato un unico compio, distruggere Brogan. Divenuto ormai il bersaglio di un se stesso con le sue medesime abilità che anticipa ogni sua mossa e che ha dalla sua il vantaggio della giovinezza. L'ex assassino, aiutato dall'agente governativo Denis Zakarvesky, Mary Elizabeth Winstead, intraprende una lotta senza esclusione di colpi contro il suo duplicato, nel tentativo di salvare la propria pelle e quella del suo clone prima che si distruggano a vicenda. Allora ragazzi, come trama una legge dice, oh figo, una cosa avvincente, molto bella, però purtroppo non è così. Quindi direi di passare immediatamente. alle scene che mi hanno colpito. Eccoci qua ragazzi. Allora, allora, allora. Allora, questo film ha molte, ma molte pecca. Iniziamo da inizio che è molto bello, ci sta. Scena che mi ha colpito è quando Will Smith uccide uno su un treno ad alta velocità, cioè con una cosa pazzesca. Nel treno che sta arrivando c'è un criminale, lui sente l'aria, mette perfetto il mirino, tutto lo spara, lo prende, morto. Fantastico, una cosa di precisione, un cecchino ad alta professionalità, potentissimo, bravissimo, fortissimo e tutto. Purtroppo ragazzi questa è l'unica scena che mi ha colpito. E basta, sì, purtroppo questa è l'unica scena che mi ha colpito, purtroppo. Sì, sì. Beh, devi passare subito a un parere personale. Allora ragazzi, allora. Allora, veramente ragazzi questo film, cioè dire che fa schifo no, perché tutto sommato non lo fa, ma non lo rivedrai, non lo rivedrei affatto, ma veramente non lo rivedrei affatto, perché dall'inizio che è veramente bello, l'inizio ti coinvolge, ti fa appassionare il film e gli dici, oddio, questo film è veramente figo. Poi si vede tutto fatto a computer grafica e dici, che schifo. Quando c'è lo scontro tra lui e Will Smith e se stesso giovane, veramente qualcosa di orrendo, cioè veramente qualcosa di orrendo. Vedevi lo scontro con loro e i due in motocicletta che era tutto in computer grafica. A un certo punto, quando si vede il protagonista, Harry, sulla moto, quando si ferma si vede che c'è una controfigura, veramente orrenda come cosa. Lo scontro tra loro due, sia nelle catacombe di Budapest, se non erro, sia lo scontro con un motocicletta veramente orrendo, fatto con la computer grafica, ma porca di quella Eva, quanto cacchio fa schifo. Cioè Will Smith mi piace un bordello come attore, l'ho adorato in Will Principe di Bel Air, che mi devo ancora rivedere, che mi devo rivedere. Mi è piaciuto un sacco in Io sono leggenda, veramente bello, anche se quel film quando ero piccolo non mi faceva impazzire. Adesso però, guardandolo con un'altra mentalità e con un'altra cosa, mi piace, è un bel film. Vederlo in questa maniera, fatto solamente in computer grafica, è veramente qualcosa di orrendo, ma non sto scherzando, questo film è veramente pessimo. Cioè, vabbè la recitazione è bellissima, ma anche alla fine, quando si vede loro due che fanno pace, computer grafica a manetta, il stesso giovane, è perennemente in computer grafica. Porca di quella puzzola. Ma, Gesù Santo, ma fatelo, provateci a farlo un po' diverso. Ma, Madonna Santissima. Perché ci sta Gemini, Gemello, però piuttosto potrei fare un altro attore più giovane, che sembrasse te da giovane. Ma veramente è una cosa orrenda. Cioè, seriamente, ragazzi, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto pochissimo questo film, solo all'inizio è bello. Solo all'inizio. Veramente, purtroppo è così. C'è l'attore Benedict Wong, che è l'attore di Wong, in Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Doctor Strange, che, devo essere sincero, come attore non è male. E poi mi piace, perché ha interpretato il tipo di Cione Wong, nei film Marvel. Quindi, va bene. Però, per il resto, ha un cast con alcuni attori che ho mai visto prima, ad ora. Mary Elizabeth Winstead, sì, anche Clive Owen, che è Clay Varys, poi non l'avevo vista, ma... Cioè, veramente, è un film che non mi ha fatto per niente impazzire. Detto ciò, direi di passare al voto, e... boh. Allora, ragazzi, con l'ultimo pezzetto di pane. Un po' di Monster. certe volte, ragazzi, faccio molta fatica a guardare questi film. Perché la storia è bella. Ma, per questo momento, la storia, veramente, è bella. Il modo, però, in cui lui scopre che il se stesso, il più giovane, è un clone, è orrendo. Come si scopre che c'è un altro clone, è orrendo. Compita grafica, orrenda. Ragazzi, l'inizio dei film, è bello. Poi, più avanti, inizia a fare veramente schifo. Dalla compita grafica in poi, fa schifo. Lo giuro, fa schifo. Cioè, ragazzi, mi sento di dargli, ve lo dico adesso, subito, un voto come 5. Ragazzi, questo film, 5. Proprio 5-5 ha preso, 5. Perché veramente, cioè, Louis Smith è un bravissimo attore, però, fa un film del genere, fatto solo in computer grafica, con, proseguimento di storia, che è veramente, è penoso, quando con l'inizio è bello. Cioè, Porta vacca. Oltre al gioco, gli altri film che ho visto, erano tutti, decenti. Cioè, Watchmen comunque, era decente. Non era chissà che cose, però, era decente. non ho parole, 5 veramente ragazzi, mi spiace, ma, se volete vederlo, vedetelo, però, cioè, non ve lo consiglio, cioè, proprio, ve lo sconsiglio. Se a voi piace, Louis Smith, ma non vi piace, la computer grafica, o vi piace, ma dosata, perché qua poteva essere benissimo, dosata, qua è, la maggior parte. Ci sono un bordello di buchi di trama, ma va bene, più che un bordello, è tanto, cioè, però, mi spiace. Ragazzi, vi trovi che per questo video è tutto, mi raccomando, ci vedete, pollice nel su, commentate, condite, se vi è fatto, attivate sempre la campanella delle notifiche, e quindi, noi ci vediamo in un prossimo video, quindi, ticclico a tutti, e, non saprei che altro dire, perché, pica pica ciutti e basta.